Ora Fuser, scambio con Mancini, la triangolazione, Fuser, il tiro, e c'è il gol, la rete di Fuser. L'intervento un po' strano, il pallone poi è terminato, e c'è il gol! Palla, attenzione, l'1-1, è incredibile la risposta da parte dell'Udinese. Ancora il passaggio per Almeida, Almeida fa la del 2-1, il gol del 2-1 con Negro. Cattato da Bennato, peraltro. Cappioli, il tiro di Cappioli, il gol! Il gol di Cappioli, il pareggio dell'Udinese. C'è anche Cappioli, palla verso Birov, di testa. Amoroso, un gol di Amoroso! 3-2, situazione capovolta!